Ciao a tutti, bentornati e benvenuti su Una Lotta per la Vita. Oggi vi voglio condividere il mio augurio di buona Pasqua e per farlo vi vorrei lasciare alcuni pensieri. Rimanete fino alla fine se volete sapere a chi appartengono queste parole. Vi ricordo di iscrivervi, condividere e cliccare la campanella. Ciao, buona Pasqua a tutti! Gesù compie in prima persona la ressurrezione definitiva, la vittoria definitiva della vita sulla morte. Un cristiano non deve mai avere paura di questa grande verità. Il motivo vero per cui siamo cristiani è perché crediamo alla ressurrezione di Cristo. Non si è cristiani per qualche insegnamento di bontà presente nel Vangelo, si è cristiani a partire dalla ressurrezione di Cristo. Perché se la morte non è vinta, che cosa vale la pena? La vita vale la pena solo se non va a finire nel nulla, ma va a finire nelle braccia di qualcuno. Dapprima Gesù seglie i piedi. Forse lo fa perché sotto la pianta dei piedi della gente è archiviata la strada che hanno fatto, dove è andata, in quale pozzangare caduta, che sentieri faticosi ha percorso o quanta erba fresca ha calpestato. I piedi sono il simbolo di tutto quello che percorriamo con la nostra vita. Lavarli significa liberarsi di tutta quella terra, molto spesso fatta di dolore, che ci è rimasta attaccata addosso. Solo quando uno ha perso questa distanza significativa dalla propria storia, può sedersi a tavola con Gesù ed ascoltarlo. Diversamente continuerà a tenere il pensiero a quella terra, a quel dolore, a quelle pietre conficcate nella carne e non ci sarà tempo per accorgersi di nient'altro se non dei propri piedi. Che Dio ci aiuti a riprendere questa vocazione primordiale di liberare gli altri dalla sporcizia della terra che hanno calpestato, dalla pece oscura del dolore, che non si stacca più dalla carne, dalle ferite profonde di chi è stato tradito o ha dovuto svoltare repentinamente per altre vie a causa di forze maggiori. Il dolore toglie le prospettive, prosciuga le speranze e appesantisce anche le cose più semplici. Ad esempio, alle donne che si recano al sepolcro mentre camminano continuano ad assillare questa preoccupazione. Chi ci rotolerà via la pietra del sepolcro? Cito loro, perché credo che anche noi siamo nella stessa condizione di queste donne. In questi mesi afflitti dal coronavirus, ci domandiamo chi ci aiuterà a riprenderci da tutto questo? Sembra sproporzionata la prova che stiamo vivendo rispetto alle nostre forze. Eppure, il cristianesimo è nascosto proprio in questa sproporzione. Credere non significa dire di avere le forze necessarie, ma fare memoria che da certi macigni solo la mano di Dio può liberarci. È tutto qui il segreto della Pasqua. Accadrà anche per noi l'esperienza di arrivare faccia a faccia con quel macigno e di accorgerci che è già stato rotolato via. Il miracolo della fede è coltivare questa misteriosa certezza che non siamo soli, anche quando ci sembra di esserlo. In questo senso la fede ha anche bisogno di una scelta. Non è un'emozione, non è un sentimento, ma è la scelta di fidarsi di un Dio che è nostro padre e che continua ad esserlo anche quando tutto grida contro di Lui. Solo così la tentazione della disperazione viene messa in minoranza dentro di noi. Ci aspettano giorni difficili, ma non siamo soli. Mai come in questo momento dobbiamo riscoprire il senso della comunità, dell'esserci l'uno per l'altro. La pandemia del coronavirus ha scoperchiato la grande ferita della nostra società di oggi, l'individualismo. Anche l'individualismo ha bisogno di trovare una cura, un vaccino. Ha bisogno di comunità parocchiali che tornino ad essere comunità e non semplici sportelli di sacramenti. Ha bisogno di scuole che educhino anche oltre i confini scolastici. Ha bisogno di una città che deve ritrovare il suo centro oltre i semplici eventi mondani, in quella attenzione agli ultimi, a chi non ha lavoro, a chi è in difficoltà, a chi ha perso tutto. La fede in Gesù la si consuma solo a vicenda e mai nella solitudine. Solo insieme ritroveremo la strada giusta e allora le nostre processioni e le nostre feste non saranno più nostalgiche, sagre in via d'estinzione. Le nostre piazze e i nostri luoghi di aggregazione non saranno più parcheggi per la noia dei giovani. L'impegno politico e quello sociale non saranno più visti con occhi di sospetto ma come logiche di servizio. La Pasqua è un dono, ma anche una scelta. Se non ci carichiamo della storia degli altri e non lasciamo che gli altri facciano altrettanto con noi, allora non ci diremo mai a tavola. Buona Pasqua a tutti!